salve a tutti ragazzi bentornati al quarto episodio di darsi spazio ripresentiamo il nostro equipaggio marco castellani grazie gabriele salve a tutti e anche emanuele che è sempre sul cockpit dell'astronave a guidarci negli spazi intergalattici allora noi stiamo registrando questa puntata da una tranquilla periferia di roma molto vicina all'ateneo salesiano che è il luogo dove si svolgono anche i gruppi di darsi pace questo per dire che per quanto ci troviamo in periferia nelle periferie possono nascere cose interessanti ma certo certamente capiremo anche meglio poi perché capiremo anche perché lo diciamo certo vorrei partire però con un tuo articolo scritto sul sito darsi pace in questo scritto tu dici cosa è accaduto nell'universo negli ultimi secoli semplificando enormemente possiamo dire questo che la terra si è mossa e di parecchio anche è stata progressivamente spostata da centro del tutto a pianeta orbitante attorno ad una stella la rivoluzione copernicana come sappiamo è proprio di rivoluzione si tratta perché il primo passo concreto verso una costruzione di un modello di universo radicalmente altro questo è ormai ben noto guardate tuttavia come l'operazione di dislocamento così salutare per la nostra percezione ed insieme così fastidiosa per il nostro ego non si fermi affatto qui assolutamente spostare la terra da centro del tutto a pianeta orbitante intorno ad una stella è stato solo il passo iniziale allora caro marco dove ci troviamo noi in questo dove la via di dove siamo quando dice noi siamo qui questa è una buonissima domanda noi siamo per arrivare subito al tema clou della nostra puntata in un super ammasso di galassie che si chiama l'aniachea vedremo anche perché il nome possiamo anticipare dalla huaiano cieli immisurabili o immenso paradiso che è un nome molto evocativo il quale è un super ammasso di galassie cioè un ammasso di ammasse di galassie in cui è compreso il super ammasso della vergine che contiene a sua volta il gruppo locale che è un gruppo di galassie che contiene la via lattea e di conseguenza il sistema solare e la terra in una specie di scatole cinesi di cui la complessità diciamo diventa enorme pian piano noi andiamo su spazi grandi quindi in un'ipotetica mappa intergalattica noi dovremmo dire siamo dentro l'aniachea e poi a sua volta con un gioco di scatole ci porta fino alla terra ma l'aniachea intanto il nome hawaiano è molto carino perché si riferisce appunto a questo immenso paradiso alla volta celeste che i navigatori del pacifico avevano sopra la testa e serviva per orizzontarsi quindi ci trasmette anche un senso di meraviglia è una cosa molto bella no questa è interessante che è stata individuata relativamente pochi anni fa per esempio per il nostro discorso di quanto sta succedendo sopra la nostra testa in questi anni è stata individuata nel settembre del 2014 l'aniachea include un centinaio di migliaio di galassie qui è bene andarci piano per capire l'entità delle cose se no ci sfuggono le galassie sono distribuite su circa mezzo miliardo di anni luce cioè l'entità di questa l'anachea è mezzo miliardo di anni luce la luce ci mette mezzo miliardo di anni per attraversare l'anachea da un punto all'altro è ancora più interessante è la massa 100 milioni di miliardi di volte il sole sono dati che ci sfuggono 100 milioni di miliardi di volte il sole è la struttura di l'anachea che è stata individuata solo di recente perché anche capire dove siamo tu immagina come dicevi giustamente te siamo in un puntino in un mare sconfinato da questo puntino riusciamo a ricostruire meraviglioso questo questa struttura grande scala senza spostarsi da questo puntino non è banale insomma no sì caro marco anche perché di solito nelle puntate precedenti noi abbiamo trattato di argomenti su larga scala cioè noi parlavamo sempre di universo in maniera un po non specifica no invece adesso stiamo quantificando delle dimensioni abbastanza tangibili e quindi ci stiamo anche rendendo conto di quale sia l'immensità e la vastità dell'universo quindi in questo magari ti chiederei anche un rimando a livello proprio di dimensioni partendo dal piccolo sistema solare arrivando via via scalando a contemplare tutte queste dimensioni e poi magari ci facciamo pure qualche domanda sulla forma e sulla struttura di questa area che ricordiamo non è tutto l'universo una piccola parte del universo è sempre una piccola parte dell'universo conosciuto esattamente noi potremmo fare questo gioco di scatole cinesi e dire la terra gira intorno alla stella sole siamo parte di una galassia che si chiama la via lattea questa galassia fa parte di un ammasso di galassi che siamo in gruppo locale il gruppo locale fa parte dell'ammasso della vergine e qui fino a qualche tempo fa ci saremmo fermati poi abbiamo individuato delle strutture a scala più grande che è questo per esempio super ammasso di la gnachea che comprende un numero smisurato centomila galassie e quindi siamo diciamo in una struttura è veramente molto molto grande tutta questa struttura si muove le galassie sento questa struttura verso un punto che si chiama grande attrattore grande attrattore perché attrae una bellezza di circa centomila galassie e in un punto lontano 250 milioni di anni luce un punto anche molto lontano e questa struttura si muove di moti che prima fino a pochi anni fa non potevamo neanche quantificare capire riusciamo a capirlo perché adesso abbiamo gli strumenti essenzialmente per analizzare un gran numero di galassie analizzare la loro velocità e capire se ci sono dei moti ordinati ti faccio degli esempi risale alle anni 70 la prima indicazione di deviazione dal moto uniforme dell'universo che è quello dell'accelerazione risale alla fine degli anni 80 l'individuazione di questo grande attrattore siamo quasi negli anni 90 la gnachea se stessa è stata individuata nel 2014 quindi sono dei dati molto molto recenti che ci aiutano a capire che l'universo su grande scala ha dei moti molto interessanti molto particolari insomma ci sono delle strutture che somigliano un pochino a delle parti di una spugna se vogliamo arrivare a questo paragone l'universo su grande scala non è né casuale né tutto uguale ma fra grandi vuoti e pareti di galassie così si chiamano ricorda dalle simulazioni che riusciamo a fare la struttura un po di una spugna una spugna che appunto ha delle dei vuoti delle tessuti connettivi in questo modo sembra che riempia lo spazio proprio intervengo con due domande a questo punto marco no la prima è che noi vediamo delle immagini per l'appunto delle immagini di la gnachea delle immagini della via lattea a volte ci sono proprio delle immagini quasi divulgative con un piccolo quadratino che dice noi siamo qui nella periferia del braccio di perseo e però giustamente qualcuno si potrebbe chiedere ma chi le ha scattate queste foto cioè come possiamo avere un'immagine di appunto hai parlato di dimensioni impressionanti pur rimanendo in un'area circoscritta ma sono dimensioni che se iniziamo a comprendere cominciano ad aprire il nostro pensiero ad esempio molti praticanti di pratiche spirituali meditative energetiche di fronte alla potenza di questi spazi sconfinati trovano finalmente un po di vuoto interno una silenzio dei pensieri no certo certo la domanda da fare è chi l'ha fatta un'immagine la foto la foto di la gnachea come ce l'abbiamo bella domanda perché è una cosa molto moderna questa cosa che noi riusciamo a ricostruire la struttura su grande scala certo non attraverso una foto in diretta come potremmo pensare perché siamo è una struttura all'interno della quale noi siamo immersi per di più non riusciamo a vedere tutto il cielo in maniera omogenea perché la nostra stessa galassia nelle parti più dense penso al disco galattico a cui abbiamo accennato nella puntata seconda mi pare ci ostacola la vista in quello che c'è dopo le immagini che noi abbiamo e possiamo anche farci e dobbiamo farci sono delle ricostruzioni largamente al computer che mettono insieme tanti dati scientifici per carità scientifici di movimento di galassie anche a grandi distanze per cui è come se noi fossimo diventati progressivamente più consapevoli del punto in cui siamo più passava al tempo se ci pensi siamo partiti con l'idea che la terra fosse al centro dell'universo tutto fosse intorno alla terra poi abbiamo capito che in realtà il sole era una parte più centrale la terra girava intorno ci siamo decentrati ancora di più quando ci siamo accorti che siamo in una galassia ma come accennavi al bordo di una galassia questa galassia chiamata la via lattea guarda un posto al bordo dell'ammasso della vergine e così via via ci siamo sempre più decentrati e l'abbiamo capito piano piano c'è voluto del tempo per arrivare a questa consapevolezza cioè all'immagine per tornare della tua domanda l'immagine di tutto questo che tutto questo diventasse un'immagine anche chiara per noi c'è voluto molto tempo quindi ci siamo progressivamente anche abituati a essere decentrati da questo centro geometrico di importanza per cui all'inizio dei tempi insomma la terra era il centro di tutto e poi ci siamo accorti che se avevamo molto in periferia però diciamo completando il discorso paradossalmente torniamo al centro con le teorie più più aggiornate perché se mettiamo tutto questo nel cuore del big bang che poi dobbiamo farlo perché parliamo di strutture a grande scala ebbene ecco lì che la domanda iniziale dov'è il centro si svuota di senso o per meglio dire acquista un senso nuovo perché per il big bang non c'è un centro non possiamo dire dove è nato dove è scoppiato il big bang dove è nato l'universo perché ogni punto del nostro universo è il centro se vogliamo siccome tutto l'universo si espande e il big bang crea e modella lo spazio possiamo dire senza tema di smentite per adesso che ogni punto è il centro e quindi la terra ecco mi piace pensare così ha fatto un lungo giro siamo decentrati e poi siamo tornati ad essere un centro a pari misura e pari dignità di ogni altro punto insomma quindi l'immagine a larga scala riflette anche tutto questo se vogliamo qui Marco mi lasci un'analogia con l'esempio che hai fatto di come la terra partendo da centro fisico dell'universo si è progressivamente decentrata è andata in periferia per poi ritornare centrale in questo senso e l'analogia che mi viene è quella che Marco Guzzi fa lui ci porta a riflettere sul fatto che ci troviamo dentro una grande città dentro una nazione un continente un pianeta un sistema solare una galassia che in un grande ammasso di galassie che è in un grandissimo universo e questa apparente decentratura in realtà paradossalmente ci porta ad una maggiore centratura ad una maggiore concentrazione che non è più a quel punto fisica diventa una concentrazione di natura spirituale ho sempre molto apprezzato il fatto che lui ci colleghi e ci inserisca in un contesto molto vasto perché così ci mette nella posizione giusta è come se noi nella vita ordinare se mi consenti l'analogia lavorassimo un po con un filtro sugli occhi per cui non ci vediamo in un ambiente veramente grande quale esso è come abbiamo cercato di delineare nella parte iniziale di questa puntata ma ci troviamo persi come piccoli uomini nelle piccole cose mentre ricollegandosi all'aspetto cosmico secondo me e qui è importante la cosmologia troviamo il vero noi stessi cioè guardandoci dall'alto da lontano se vuoi noi capiamo come siamo Marco proprio fa l'esempio come dici tu del fatto che siamo intorno a un astro al sole che gira intorno alla galassia questo per esempio è curioso perché il sole si muove da pazzi intorno alla galassia cioè si muove a 220 chilometri al secondo quindi noi siamo ben lungi dall'essere fermi o stazionari lanciati in una corsa folle nel cosmo dimenticare questo secondo me ci porta a una percezione che censura qualcosa e quindi una percezione errata in questo senso almeno spero che questa ricostruzione a grande scala dell'universo ci serva non tanto per accumulare nozioni ma per metterci nel giusto punto nella giusta percezione del cosmo e sapere che c'è un cosmo enorme intorno a noi e anche strutturato in altre parole una struttura composita enormemente più grande di ogni cosa che possiamo pensare beh questa è una cosa che destra innanzitutto meraviglia che destra una serie di domande a livello cosmologico perché si sono formate queste strutture possiamo pensare possiamo tornare anche all'evidenza scientifica che ci dice queste strutture che adesso sono larghe milioni di anni luce milioni e milioni di anni luce sono partite da piccolissime in omogeneità nel brodo primordiale così si dice insomma nella materia agli istanti successivi al big bang queste piccolissime minuscole quasi immisurabili disomogeneità dico quasi misurabili perché le abbiamo misurate dal fondo cosmico di microonde solo da pochi decenni hanno formato delle strutture enormi e composite di una bellezza anche eccezionale perché l'universo a grande scala lungi dall'essere piatto o omogeneo è comporta queste strutture che è una serie di successioni fra vuoti muri attrattori quindi c'è un gioco molto molto più grande di noi in cui noi siamo parte e credo che la cosa altrettanto meravigliosa sia che da un piccolo puntino azzurro per dire una frase di saganne di un famoso divulgatore noi riusciamo a ricostruire una scena che è enormemente più grande di noi questo mi riempie sempre di meraviglia insomma no e anche è bello sapere dove siamo ma inteso in senso più largo possibile perché ci mette come dici tu per tornare alla tua osservazione credo che ci metta anche nel contesto più giusto insomma ci ci riduce ma in senso sano ci leva un po di prosopopea e ci mette al nostro posto in un universo che è meraviglioso effettivamente marco tu parlavi di come la terra sia un piccolo puntino blu molto periferico rispetto a tutti i grandi corpi astronomici che abbiamo menzionato in questo video però effettivamente il concetto di centro spirituale non è poi così folle non a caso la nostra galassia la via lattea ha 100 miliardi di stelle che sono paragonabili ai 100 miliardi di neuroni che abbiamo nel cervello e prima tu parlavi di una forma se vuoi spugnosa no e dalle foto che possiamo vedere di l'agnachea è evidente la similitudine con un tessuto cerebrale con un tessuto sinaptico sono indubbiamente gabrile delle energie interessanti interessanti sotto molti punti di vista è vero e colpisce al di là anche del possibile significato che possiamo dargli a seconda anche un po di come siamo orientati certe similitudini colpiscono il fatto che la nostra galassia abbia un numero di stelle che intorno ai 100 miliardi è paragonabile agli 80 90 100 miliardi di neuroni nel cervello umano mi colpisce mi ha colpito intanto perché il cervello umano in uno spazio così piccolo ha un numero così grande di neuroni è incredibile ed è incredibile anche evocativo che rifletta il numero di stelle nella nostra galassia cioè l'ambiente stellare a noi più 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 confacente no c'è qualche cosa indubbiamente di molto evocativo in questo anche al di là dei possibili significati aspetti che magari sono ancora inesplorati per certe cose è parimenti evocativo andando sulla scala di laniachea la sua struttura spugnosa che effettivamente diciamo a prescindere da qualsiasi considerazione ricorda un po una struttura di un cervello no e questa spugnosità di questi filamenti questa struttura a filamenti siano anche filamenti di galassie beh oggettivamente visti nelle ricostruzioni fotografiche ricordano parecchio e noi filamenti neuronali quindi c'è qualcosa indubbiamente di suggestivo che anche se scientificamente non siamo certi di cosa possa voler dire però comunque non ci autorizza insomma a trovare a fare delle correlazioni che sono molto stimolanti questo sì questo assolutamente sì insomma è bello anche trovare che queste strutture grandi scale abbiano una conformazione particolare che poi ci ricorda cose a noi molto più prossime questo è straordinario e non era comunque garantito da niente prima di averlo scoperto insomma dalla descrizione a tutto il video abbiamo capito che laniachea è una struttura incredibilmente vasta ma alla fine laniachea è l'ammasso più grande che abbiamo individuato o in questo gioco di scatole cinesi c'è un altro contenitore più grande pare che appartenga qualcosa di ancora più grande si chiama tecnicamente super ammasso dei pesci balena è un filamento un insieme di super ammassi di galassie che include appunto la nientea che include l'ammasso della vergine il gruppo locale la via latti eccetera è stato trovato abbastanza recentemente a fine degli anni 80 dall'astronomo tulli dell'istituto delle hawaii fra l'altro ecco torniamo anche queste cose diciamo che è la cosa più grande in cui noi siamo contenuti che si riesce a determinare in questo momento hanno lunghezza assimata di circa un miliardo di anni luce e ha una larghezza di circa 150 milioni vedi che siamo dalla comparazione delle dimensioni e non è una struttura sferica ma è una struttura a filamento siamo compressi in una struttura che è quasi una parete perché è interessante che queste grassi e ammasse di grassi si dislochino su una struttura che è molto più lunga che spessa no è una delle strutture più grandi osservabili ci batte la grande muraglia di ercole a cui però noi non apparteniamo che pare che si allunga circa 10 miliardi di anni luce per cui diciamo che qui siamo arrivati veramente alle dimensioni dell'universo osservabile in se stesso e è interessante questo gioco di scatole cinesi insomma che ci rimanda a strutture la cui ampiezza come dicevi te facciamo fatica a immaginarci però penso che sia per chi ci ha seguito questa cosa sia importante perché immaginare le estensioni così vaste che però non sono diciamo indistinte ma hanno delle complessità in se stesse ci aiuta a capire che siamo in un universo incredibilmente vario complesso articolato con dei rimandi diciamo così misteriosi o se vogliamo anche evocativi alle strutture a noi più prossime quindi è un universo tutt'altro che noioso fammi dire così incredibile dove la cosmologia si lega in qualche modo almeno a livello di suggestione alla biologia e tante altre cose insomma bene marco grazie grazie anche a tutti i nostri amici per averci seguito grazie a tutti e alla prossima caprile che possiamo dire alla prossima ci vediamo alla prossima e mi raccomando mettete il like seguiteci mettete il segui sul canale e condividete questo video un saluto a tutti i ragazzi e alla prossima un saluto alla prossima arrivederci grazie a tutti